Sicuramente quei tre oggetti La rocket belt pure Non sarebbe male perché ci dà quel dash in più Però Oh chi se ne frega Possiamo andare di shadow flame Per danni superiori Possiamo andare di rabadon Rabadon è sempre forte Cioè una volta che build i due oggetti Andiamo sicuramente in meggiare Comunque Blitzcrank full up Questo penso sia Da non so quanto tempo Il primo Blitzcrank che Non è richiesto nello specifico come Napoli Cioè non è richiesto specifico come Blitzcrank con lo smite che ruba L'item oddio è vero Stavo così tanto pensando A cosa devo buildarmi che mi sono dimenticato di comprare questo Sì anche perché Cioè la Q di Blitzcrank l'hanno baffata Tempo fa Tempo fa Uno o due anni fa 120% di AP ragazzi 120% Ma voi sapete quant'è 120% Cioè per farvi capire La E di La E di Jarvan Che fa tutti quei danni Avete presente la E di Jarvan Che tira lei E scoppa Ti piove Lo standard di interesse Tra tutti quei danni Scala all'80% Questo è 120 È un casino 120 La ulti scala 100% E lei ha pure uno scaling AP Non me lo ricordavo Che lei avesse uno scaling AP Non mi ricordavo Che lei avesse uno scaling AP Sincero Ah beh è ovvio che più dello scaling Ma Veigar non ha Allora Veigar sulla Q ha uno scaling Tra virgolette basso Mi pare sia 60 65% Perché il suo scaling Vale più di chiunque altro Ovviamente Perché arriva ad avere Molta più AP Se Veigar avesse sull'acuno scaling Così Non Uno non potrebbe giocare Io direi che qua aspettiamo La E per grabbare Perché grabbare Senza poi stunnarlo di E Non è Particolarmente rilevante Chiaro che avrebbe grabbato Il primo è di prova Come sempre C'è abbiamo pure la skin da poliziotto Comunque Sulla W Ma la W corre La W è Moving Speed Attack Speed Uff Era troppo ottimista Quel grab Era troppo ottimista Quel grab Non sarebbe mai andato In quella direzione 3 grab E il mano è finito Vero Perché ho 300 di mano Il grab costa 100 Quindi sì Letteralmente Lucian comunque sa che deve mettersi Esattamente Dietro il minion Rispetto alla mia Visuale Dai Ma porca miseria Spero di prenderlo Pike qua Maledetta Prospettiva Vabbè Almeno si recupera Il grab Samuel Perché Non mi diverto più Alla mia età Farle Semplicemente Ha ha Questa non Puoi Doggiarla Allora Caitlyn Ha avuto L'idea giusta Non l'ha eseguita bene Con la trappola Però vabbè Ci sta Era un test Comunque vedo che Quando ha l'headshot Va sempre a punire Nemici Cioè Stakete Non è addormentata Abbiamo entrambi La skin da poliziotto Incredibile Sembra premade Con la skin Matchata Ci ho visto Ci ho fatto caso Solo ora Qua se grab Dasha Lui Sicuro Si muovono Troppo Vabbè Non importa Sto pensando Se mi conviene Prendere Ludens Non penso Comunque Alla fine Sto sparando Tanti grab Perché vedo Che il mana Lo recupero Abbastanza Quindi Qua C'è troppo Gaming Passivo Per i miei Ma non l'ho preso Con quella Scusami E' troppo magro Lucian Non riusciamo a hittarlo Vabbè E questo sarà Il gaming Ragazzi Io se Però Pyke Lo posso Grabare Più facilmente Però Non ci guadagno Niente A grabare Pyke Al massimo Tira via Un terzo Un quarto Di vita Si è mosso Bene Nulla da dire Però Ha tirato Leal Sì Ha tirato Leal Meglio Che niente Riusciò A prima Poitare Un grab Dove Andare Back Ora No Stiamo Caitlyn È brava Infatti Sì Sì Caitlyn Non è Niente Male Ma questo Non c'ha Ok Forse Li faccio così Prevedibili Cazzo È che di solito Gli aero Vanno dritti Invece Sto Che vuoi picchiare Brother Niente Ah Farmato il minion Quello che volevo Oddo Back Allora Lo prendo Vai Sono Cioè Dopo il grab Che ho fatto Fa strano Dirlo Però sono Fiducioso Sono fiducioso Non so Se riuscirò A prendere Hook Ragazzi Allora Dico Questo Il 90% Posso Anche Missare 9 Grab Su 10 Ma se Quell'1 Su 10 È decisivo Sarò Comunque Un ottimo Support Basta Hittare Quel grab Su 10 Importante Questo È un buon Insegnamento Cioè Hittarli tutti È meglio Però Un attimo Oh Ah ecco Perché Eh no No Dopo il dodge Che avevo fatto E avevo fatto Un bellissimo dodge Peccato Quel dodge Alla E È stato Supreme Ma come Mi vuole Ultare Quello Proprio Che detta Sta perla Paolo Cannone No Me la sono inventata Io Adesso Per giustificare I grabbe filati Abbiamo un aiutino A pushare Back Abbiamo un po' Di movement speed Posso farti una domanda Economicamente Sei messo bene Perché se non fosse così Mi dispiacerebbe Dato che tu meriti molto Sì Sono messo bene Economicamente Mi mantengo Sono contento Grazie Cioè È un complimento Ambiguo Ma ti ringrazio Non ho due piscine Due supercar Diciamo Non così bene Però Non mi lamento Ho una casa Preso No Caitlyn Se riusciva Hittarla Oh Mamma mia Sta Vedete Questo era il grab Decisivo Che dovevo Hittare Addirittura Alla cieca Purtroppo Caitlyn Non ha fatto La sua parte Boh Era lì eh Tre pixel in più Era tutto ciò Che serviva Ah tranquillo Attra Tranquillo Sto bene Ho comprato casa Ecco Quindi vuol dire Che il lavoro Mi va molto bene Il grab decisivo Metti la trappolina Sacco di merda Vabbè Stavolta però È colpa di Caitlyn Non di te Che è colpa Di miei grabs Sì ma questi Doggiano ragazzi Io però Non sono Io non sono Allenato contro Questa gente Mi dispiace Io sono calibrato Per un altro livello Diciamo le cose Come cazzo stanno Diciamo le cose Come cazzo stanno L'ultima volta Che ho giocato Blitzkahn Che eravamo Ancora veramente In iron Non in mezzo A sto minestrone Eh Prendiamo Un'altra Di plate Eh sì Molto bene Comunque Comunque Side-step Hanno soltanto I nemici Cioè Caitlyn Non side-step Neanche un pochino Andiamo back No vittorio Non ci sono proprio Più gli iron Di una volta Ho trollato Ok Userò il flash Uno per uno Non fa male a nessuno Meglio che niente Dai Poteva andare peggio Vediamo subito le scarpe Eh vittorio Pochi Pochi ce ne stanno Di iron Molto pochi Non demordiamo Va bene così Va bene così Allenamento per noi Ricordiamoci che Viamo sul pianeta terra Dai è quasi un anno Che tragedie ragazzi Mi hanno shottato Che cazzo i danni Ok Ti ulta Oddio Ok Worth Paradossalmente Worth Molto bene A questo no Zack Zack Prendiamo Calcolato Oserei dire Lo so Bumt Non si manda avanti La live Non si manda avanti Ma tanti me l'hanno detto Ogni tanto Salta fuori Questa cosa Io in realtà Dovrei Dovrei Gancare Anche gli altri Perché Devo prendere La moving speed Vediamo se Rusciamo a Gancare Vediamo Vediamo se Vediamo se Lasciamo Gancare Qua Molto bene Abbiamo preso Una stack In più Di Relentless Hunter Bene Good job Grazie Grazie Oh Andiamo back Subito Grazie Mayu Grazie Mille del sub Per la piscina Quest'altro E Maniro Grazie Mille del sub Anche a te Grazie Tante Oh Oh Io ci provo Bro Eh Questo è Too much Qua E ti piace Più il dolce O il salato Un po' Il dolce Ma Il dolce È un po' Il dolce Sì Questo No Preso Molto bene No L'ignite Dell'assist Lo volevo Per Va bene Va bene Oh Cosa fa Oh È pazzo Tonk Come l'ha preso Lui Perché è tornato Inietro con la E C'era il big night Vabbè Poco male Per carità Però sarebbe stata Una stacchettina Piolo Grazie Mille dei dieci mesi Bentornato Caro Bentornato Vi vedete I grab Che contano Cosa avevo detto Pazientate Pazientate Ragazzi Anche se ho Se ho sbagliato Quei nove Gabi precedenti Io poi Hitto Quello che Conta E la partita Boom Skyrocket Proprio Skyrocket Grande Maio Allora Ti ho un paio Di wards Da queste parti Per vedere Chi passa A me manca Solo Garen No mi manca Anche Rengar Da killare Garen E Rengar Dice Garen Bu Buongiorno Rengar Preso Grazie Maniro Dei sub Giftati Grazie Mille Beh E Sai come Funziona Caro Scegli pure Un bel Pick Uh Ecco Andato Dal lato Giusto Io ormai Il mio occhio Aveva già visto Che dovevo Grabare A quel lato It's fine Addirittura Va bene Grazie Emma Grazie Mille Nasus AP Certo Che si può Volentieri Riusciamo a Prendere Il Demacia Che Mi manca Soltanto Oh Bu No Si è girato Bene Mamma mia Che forti Sti Iron Comunque No Ho sbagliato Ma quanto Lontano L'ho preso Mega Flash Lunghissimo È facile Da sbagliare Il flash Di quel Muro Ma Vieni qua Tesoro Vieni qui Mamma mia Pure di invisibile Ti prendo Ormai Ormai ho aperto Il terzo occhio Andiamo Andiamo back Altra moving speed Prendiamo Più veloci si è Meglio è Allora E E E E E E E Rengar Per forza Fanno il cespuglio Eh certo Era in ulti Quindi non era Obbligato Per il jump Però Mia kill 150 gold Ah ma sta 1-6 Porraccio Ok mi manca Soltanto di Comprare il Maggi Adesso Manca solo Quello Mi servono 700 gold Ok Poi è esagerato Il flash force Vabbè non importa Oh È Peter Griffin Poi è Peter E questo è teamwork Molto bene Back Oh Ma guarda chi c'è Il Sergio Oddio Queste non li prendete Aha Oh oh Mia cugina si strofina I miei occhiadi Sono nascosti nel cespuglio Pigliaconi Vieni qua tesoro Aia mi sto Aspetta che mi stanno Fulminando Ulti di merda Ok Strage Assoluta Atomica Ma quanto roba Abbiamo distrutto Ma lui sta Ammazzando tutti In base Ma cosa sta Succedendo Oh mio dio Oh mio dio Sono velocissimo Quanta moving speed Ho adesso 480 Ma dai Ah Vabbè Grazie Ec Bentornato E grazie mille Dere sub Carissimo Grazie mille Bello sto Blitzcrime Full api Per il buono Oscuro Signore Che sono giorni Che non passa Più in live La leading phase È stata Molto di riscaldamento Possiamo dire Molto di riscaldamento Però poi 22 minuti In tempo Per il buono